ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad officine tecniche officine tecniche un brand emergente italiano che ho avuto l'occasione di incontrare all'ultima watches of italy la fiera dei micro brand cosiddetta e con il quale ho instaurato questo rapporto di collaborazione anche se era già un paio di anni che ci stavamo corteggiando l'un l'altro fecero uscire il loro primo orologio il super lo scorso anno e desideravano che io facessi una panoramica una recensione del loro orologio per poterlo valutare ma io mi rifiutai perché non era secondo me i tempi non erano ancora maturi io volevo vedere voglio vedere se un'azienda cresce se fa qualcosa di più del primo orologio no fermarsi al primo orologio è un po un rischio vi propongo la prima uscita di un brand e poi dopo scompare è un po una sconfitta no poi porta anche sfiga io no quindi ho atteso il secondo orologio e abbiamo e abbiamo installato questo piccolo breve momentaneo rapporto di collaborazione per il quale loro mi hanno mandato da valutare questi quattro orologi mi hanno mandato quattro modelli dei quali gentilmente mi consentiranno di tenerne uno in collezione a dire il vero non uno di questi quattro perché questi quattro sono prototipi sono quelli che utilizzano alle fiere che danno alla stampa quindi sono anche abbastanza maneggiati un pochino rovinati diciamolo quindi non uno di questi quattro ma me li manderanno a dicembre quando uscirà la produzione ufficiale di questo si chiama l'orologio officine tecniche aquas aquas già che ci siamo guardiamo un attimino devo rivoluzionare il sistema con cui faccio le panoramiche perché altrimenti non si capirebbe quello che vado a dire subito individuiamo quali sono i modelli perché sono tanti e sono abbastanza complicati che si intrecciano tra loro officine tecniche aquas è il modello generale la famiglia che poi si suddivide in pugno chiuso che sono quei due più sobri grigio e blu e in altri quattro colorati che si chiamano aquas sub ora sono in prevendita quindi in questo momento li pagate il prezzo che vedete qua scontato rispetto a quello che sarà poi il listino ufficiale a dicembre quindi se li prenotiamo adesso abbiamo questo piccolo sconto la differenza qual è a parte il colore che le officine tecniche aquas detti pugno chiuso arrivano con il calibro g101 le jupere g101 mentre i sub arrivano con il calibro 90 39 i pugno chiuso hanno la cassa e il bracciale trattati con un sistema di indurimento un procedimento che indurisce l'acciaio mentre il sub no inoltre il pugno chiuso arriva con bracciale in acciaio e cinturino in gomma e adattatore per i cinturini normali mentre il sub arriva solamente con cinturino in gomma e adattatore senza bracciale che poi è possibile acquistare in un secondo momento questa è la differenza tra questi modelli e ricordiamoci quelli sobri con il calibro le jupere e quelli colorati con il calibro miota 90 39 poi vedremo in fase di conclusione finale che ci sono altre piccole differenze che rendono abbastanza cervellotica la scelta è un po difficile andare a capire scegliere ma io dopo ve lo leggo ve lo leggo tutto dicevo che mi consentiranno di tenerne uno che io sceglierò tra questi no a linea generale il colore il modello ve lo dico alla fine è quello che sceglierò perché sono anche abbastanza indeciso tra due modelli perché va bene poi vedremo detto questo luca e dennis sono i due proprietari sono pugliesi pugno chiuso altro non è che una location in puglia sul gargano una una location loro chiamano i loro loro orologi li rinominano con dei nomi dei nickname dedicati alla loro terra e questo gli fa onore oltre a loro che sono professionisti non di questo settore ma in altro settore per il quale hanno costruito questa poi azienda una frase che mi ha colpito è detto che loro stanno costruendo questa azienda per i loro figli nel senso che non pensano neppure di voler raggiungere il break even cioè il pareggio di bilancio in questa vita ma vogliono lasciare ai loro figli e questo è abbastanza indicativo dico ho anche accettato di collaborare perché ho verificato loro mi hanno le informazioni io ho verificato che il progetto è tutto in house cioè tutto un design realizzato da zero le casse le fanno fare in italia l'assemblaggio lo fanno fare in svizzera anche per i modelli che non c'è sui quali non è scritto swiss made cioè gli aquas sub lo fanno fare nello stesso stabilimento svizzero quindi anche se non c'è scritto swiss made l'assemblaggio è sempre le avviene non c'è scritto perché c'è una 1939 dentro che è giapponese insomma mi hanno fatto vedere anche i disegni della clasp che hanno progettato insomma il bracciale il cinturino in cauciu disegno loro quindi dietro c'è tutto un lavoro che mi porta a pensare che è possibile portarlo qua sul canale io l'ho portato poi mi piace anche l'orologio voglio dire ha un design diciamo contemporaneo come va per la maggiore adesso un po ruffianotto ma mi piace ora prima di guardare la panoramica no di queste officine tecniche simpaticissimo orologio vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo long in idro conches da 41 mm orologio del 2014 circa con il suo vai calibro 28 92 che loro denominano l 619 e per il quale ho già montato una maglia aggiuntiva perché un amico del canale tale giorgio colombo che io saluto mi ha inviato gratuitamente una maglia aggiuntiva da montare perché era un po stretto e io in cambio però gli ho mandato un centurino dell'amico di john coulstraps che così abbiamo fatto uno scambio alla pari sulla fiducia ringrazio ancora giorgio colombo per avermi mandato la maglia e quindi il restauro inizia già a prendere un altro tipo di piega come disse vabbè coso adesso guardiamo la panoramica del aquas e poi ci troviamo qui per le considerazioni finali che sono molto importanti e sono molto importanti entriamo nel vivo della panoramica andando ad elencare i risultati ottenuti dalle misurazioni diametro cassa 40 mm spessore 13.6 ingombro trasversale al polso 47.4 e ansa non pervenuta di questi parametri quello meno in linea con le aspettative parrebbe essere lo spessore in realtà ad occupare una parte importante dell'altezza è il vetro zaffiro bombato mentre la cassa vera e propria misura 11.9 lo si evince chiaramente anche al polso in quanto si adage in maniera equilibrata senza apparire troppo invasivo inoltre il suo punto di forza a livello visivo è dato dalla larghezza ghiera che risulta identica alla larghezza cassa questo ci restituisce una sorta di monoblocco circolare propedeutico poi allo sviluppo delle anse sagomate nel tipico stile bracciale integrato che abbiamo imparato a conoscere anche la finitura superficiale ricalca gli stilemi tanto in voga oggi una serie di piani inclinati spazzolati longitudinalmente intervallati da un bisello lucido da notare che la pregevole smussatura è presente sia sul dorso cassa che al confine tra lato carrur e fondello quest'ultima è particolarmente encomiabile in quanto va ad ingentilire il punto di contatto con il polso eliminando così il rischio di risultare scomodo o peggio ancora tagliente a questo punto è necessario menzionare il trattamento indurente a cui vengono sottoposti casse bracciale si tratta della nitrurazione al plasma un procedimento che ad elevate temperature e grazie ad un campo elettrico consente all'azoto di arricchire gli strati superficiali dell'acciaio al termine del processo si avrà un acciaio quattro volte più resistente ai graffi 1200 vickers questo trattamento viene effettuato su tutti i bracciali ma solamente sulle casse dei pugno chiuso a completare il design interviene poi il comparto spallette corona due alette il cui compito è quello di svolgere il proprio lavoro di protezione senza risultare troppo ingombranti anche questo un piccolo segnale di quanto si voglia unire la sportività ad una certa eleganza dinamica propria dei giorni nostri sì perché i canoni della formalità classica rappresentano sempre meno la società moderna che rifugia da certi stilemi per tuffarsi in una nuova dimensione di eleganza dimensione che coniuga appunto dinamicità comodità e aspetto estetico e che sempre meno necessita di confini predeterminati un contesto nel quale l'acquas riesce a dare il meglio di sé ma torniamo al comparto corona di carica quella che stiamo osservando non è quella definitiva in quanto nella versione finale gli spigoli saranno più arrotondati e rifiniti mi riservo quindi di vederla in seguito ciò che rimarrà invece invariata è l'impermeabilità dichiarata in ben 300 metri grazie appunto alla corona vite e al fondello avvitato integralmente alla cassa quest'ultimo è in solido acciaio e vede raffigurata tramite coniatura la rosa dei venti logotipo del brand officine tecniche è veramente ben fatto e restituisce la corretta sensazione di qualità e robustezza lo apprezzo molto e per valutare ancora meglio visto che si tratta di prototipi apriamolo e diamo uno sguardo all'interno in quanto prototipi occorre dire che sono stati maneggiati da più persone e va da sé che eventuali segni visibili sono frutto di tali maldestri passaggi di mano fondello con uno spessore coerente a resistere alle 30 atmosfere e con una prima guarnizione a corollario notiamo poi l'anello ferma movimento realizzato in metallo ed una seconda guarnizione posta a protezione del movimento vero e proprio questo che vedete è il calibro la jupere g101 nella versione top grade lo si riconosce dalla dicitura swiss mate viene regolato su quattro posizioni dalla jupere e controllato sulla quinta posizione da officine tecniche non è altri che il miota 90 39 modificato e rielaborato in svizzera cerchiamo di scoprire le differenze a destra vediamo il 90 39 montato sugli acqua scolorati ciò che si vede da subito è che le linee guida dell'architettura generale sono le stesse posizionamento delle viti del ponte del bilanciere e dei ruotismi tutto equiparabile le differenze in prima istanza stanno nelle finiture più sofisticate e curate del g101 viti blu decorazioni a cote de geneve materiali delle ruote differenti e una differente sagomatura dei ponti come a voler cercare una determinata continuità stilistica lo si nota alla congiuntura dei due ponti in linea generale una maggior cura porta con sé anche una maggiore attenzione durante le fasi di assemblaggio la più grande differenza sta però nell'organo regolatore laddove il g101 prevede il sistema anti shock swiss made kiff mentre il 90 39 usa il made in citizen paraflex si noti anche il sistema di regolazione fine a vite che è assente sul 90 39 a livello di performance occorre poi segnalare le ore di riserva di carica 60 contro 42 e la precisione di marcia dichiarata più 7 meno 7 per il g101 e meno 10 più 30 per il 90 39 a tal proposito ho provveduto a fare delle misurazioni sul campo e il risultato ottenuto è più 5 secondi per il g101 e più 9 secondi per il 90 39 richiudiamo il fondello e diamo uno sguardo al volto voglio prendere in esame per la maggior parte il quadrante blu vedremo gli altri nel dettaglio durante le conclusioni finali qualcuno ritiene possa essere un po troppo affollato io non la penso così in primis proprio perché mi piace e riesco ad apprezzarlo per quello che è in secondis perché viene equilibrato dalla ghiera girevole che per quanto riguarda la grafica si presenta piuttosto spoglia si crea così un mix la cui media ci restituisce un insieme tutto sommato armonioso essendo un diver è unidirezionale a 120 scatti ben manovrabile e rivestita di vetro zaffero antigraffio la scelta dello zaffero rispetto alla ceramica va da ricercarsi nel pantone dei colori avere un inserto identico al colore quadrante personalizzato è praticamente impossibile a questi prezzi ed è quindi più vantaggioso utilizzare un inserto in acciaio pigmentato protetto dallo zaffero come nel caso di questo pugno chiuso laddove il blu desaturato è il colore scelto una tonalità tendente al carta da zucchero scuro che apprezzo particolarmente in quanto una delle poche tonalità in grado di fondere sobrietà e colore a renderla un poco dinamica ci pensa la finitura degradé che passa dal bordo scuro al centro chiaro quasi bianco il bianco centrale non è una soluzione così comune e vedremo poi le differenze con le versioni colorate inoltre proprio il fondo goffrato a finitura rugosa a dare una svolta tridimensionale all'intero quadrante quando si utilizza questo tipo di lavorazione il rischio è che il risultato possa trasformarsi in un grottesco tentativo di emulazione di qualcosa di pregiato qui si è invece riusciti a realizzare un fondo quadrante finemente irregolare ma soffice ed uniforme ma al di là della tavolozza è proprio il dipinto a rappresentare qualcosa di particolarmente interessante ogni singolo accento è stato realizzato partendo dal concetto di semplice stanghetta declinata poi in differenti modalità tre segmenti paralleli per la creazione degli indici ripresi poi dalla sfera secondi e due segmenti paralleli per gli indici ai quarti questi ultimi appaiono alquanto rilievo in quanto vengono applicati sul quadrante in un secondo momento ma anche i numeri arabi sono frutto di quel concetto sono infatti composti da piccole stanghette ora parallele ora perpendicolari nell'intero quadrante non c'è un elemento tondeggiante o d'obliquo ogni accento segue la regola della stanghetta in realtà un estroso tocco differente c'è ossia la base romboidale della sfera secondi al centro fuori dal contesto generale allontanandoci un poco possiamo poi notare che tutto questo geometrico posizionamento trova la sua esaltazione massima nell'equilibrio simmetrico delle forme sia sull'asse verticale che su quello orizzontale questo è possibile perché non vi è alcuna finestra data di interrompere il disegno generale voglio aggiungere che entrambi i calibri sono nodata nativi e quindi senza scatto fantasma alla corona insomma accenti chiari geometricamente definiti e sfondo scuro sui bordi già permettono di capire che la leggibilità grazie anche alle lancette ben presenti risulta particolarmente elevata ma è in condizioni di scarsa luce o al buio che l'ho trovato sorprendente il super luminova c1 si attiva repentinamente al minimo passaggio tra zona luce e zona ombra per poi dare il massimo in totale assenza di luce ritengo questo sia un punto forte dell'orologio anche l'inserto ghiera è retroilluminato non rimane che parlare del bracciale stilisticamente parlando lo trovo alquanto centrato mi piace il modo in cui rastrema verso la chiusura ed è uno dei rari casi in cui il bracciale integrato è a chicchi di riso un binobbio che stilisticamente parlando riesce ad unire due anime retro differenti per poi vestirle con le caratteristiche tecniche dei giorni nostri quali l'indurimento superficiale precedentemente visto e i perni a vite a fissare le maglie c'è anche la regolazione micrometrica ingegnerizzata all'interno della clasp con un'escursione di quasi 10 mm qui occorre fare una precisazione la clasp che verrà montata definitivamente è nettamente più corta ed elegante pur riuscendo a mantenere la stessa escursione prevista in questa un ottimo upgrade c'è poi il cinturino in caociu gomma naturale il design proprietario come tutto il resto dell'orologio d'altronde e si congiunge la cassa tramite l'utilizzo di un perno a vite ecco per svitarlo occorre utilizzare due cacciaviti uno per parte con conseguente aumento della macchinosità nell'effettuare il cambio cinturino questo potrebbe limitare l'entusiasmo nel passare da uno all'altro con elevata frequenza in ogni confezione sono poi presenti due adattatori che consentono di poter utilizzare classici cinturini aftermarket più precisamente da 20 mm di ansa ecco questa è una soluzione intelligente ed apprezzabile che apre le porte ad una personalizzazione veloce e colorata alla portata di tutti possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali eccoci qua per le conclusioni finali e io ce ne ho tutti e quattro qua in fila come diceva cicciolina durante la gangbang tutti in fila lì in attesa di una mia decisione decisione allora intanto punti deboli a livello tecnico punti deboli non eclatanti non ce ne sono anzi nemmeno per tanti c'è una cosa che di cui tener conto che la massa oscillante è rumorosa è rumorosa nel senso rumorosa non è che fa casino nel senso che se siete nel silenzio scuotete velocemente il polso e poi appoggiate l'orecchio sentite il frullino l'effetto frullino della massa oscillante che essendo unidirezionale quando ruota dalla parte libera senza frizione senti un rumore una vibrazione questa è una cosa che accade anche con altri calibri è successo con il slit sv200 con 7750 con molti calibri accade non è un difetto è la caratteristica però non con tutti i modelli nel senso che capita anche gli sv200 che non lo fanno io non mi so dare una spiegazione di questa cosa presumo che probabilmente la cassa interna ha delle forme degli spazi vuoti per cui in certe occasioni si raggiunge la frequenza di risonanza per la quale poi avviene una vibrazione e il suono si sente maggiormente questo può essere ripeto non è un difetto per assurdo potrei anche pensare che un fermo a movimento in plastica riesce ad attutire questo suono questa vibrazione pur essendo magari di minore qualità un fermo a movimento in plastica facilita elimina questo problema comunque problemi tecnici difetti tecnici non ne ho riscontrati ora c'è invece da capire a livello grafico a livello di interpretazione le varie le varie situazioni differenti io ne ho quattro mi mancano chiaramente quei due più sgargianti che sono quello verde e quello viola meno male che non ce li ho perché sono veramente adatti ad altro tipo di persona non a me a me piacciono più gli orologi sobri già che ho questo verde lime qua in visione è già tanta roba allora innanzitutto cosa cosa possiamo notare gli inserti ghiera allora sono tutti colorati dello stesso colore del quadrante tranne che in quello arancione eccolo qua in quello arancione la ghiera è nera non è arancione questa è già la prima differenza in quello grigio chiaramente tende al nero perché ai bordi è nero poi l'arancetta dei minuti in tutti i modelli è bianca in quello grigio è arancione quindi se voi vi piace questa caratteristica l'unico che ha questa lancetta colorata è quello grigio poi passiamo al quadrante degradé il quadrante degradé tende verso bianco solamente nei modelli blu e grigio sugli altri quadranti come l'arancione oppure il lime e gli altri due è degradé cioè passa dal nero alla tonalità corretta ma senza passare al bianco al centro quindi già questa è un'altra differenza al proposito occorre dire anche che quello grigio è quello che pecca maggiormente di leggibilità perché la parte centrale è molto chiara c'è molto più bianco rispetto a quella blu e quindi i numeri i numeri arabi che sono al corollario essendo bianchi vanno a confondersi leggermente con il centro sarebbe stato meglio farli neri o scuri o grigio scuro può darsi di sì comunque se a voi vi garva l'effetto diciamo ghost un pochino così meno visibile meno accentuato quello grigio è quello più adatto tanto più che ha la sfera la sfera minuti arancione quindi ha quel tocco di colore particolare poi un'altra cosina simpatica da dire è la ghiera allora dove dove la ghiera è scura che è blu o nera bene i numeri a contrasto sulla ghiera i segni i markers si vedono bene in quella la versione gialla la ghiera i numeri sulla ghiera sono bianchi e praticamente sono quasi scomparsi sarebbe stato il caso di farli verde scuro prendere a goccia un colore verde scuro all'interno del quadrante e riportarlo sui numerini sugli accenti al posto del bianco anche questo è una controprova che non so però in questo caso se vi colore sgargiante così e la ghiera quasi ghost in questo caso eccolo lì fa per voi poi cosa c'è il logo ecco il logo che sarebbe la rosa dei venti di officine tecniche è declinato in due differenti versioni in quella blu e in quella grigia è metallo lucidato lo vedete chiaramente mentre in quella arancione e in quella lime è metallo brunito è scuro è quasi nero cioè è metallizzato ma è nero quindi risalta molto di più io preferisco la rosa dei venti così metallizzata in quel colore lì altra differenza sono poi le scritte all'interno del quadrante laddove il quadrante si presenta colorato le scritte sono nere sono nere mentre nel blu sono bianche e nel grigio sono nere ecco nel grigio sono nere come avrebbero potuto essere gli indici magari come vedete c'è una serie di intrecci di colori che creano un po di confusione quindi prima di scegliere uno deve anche vedere queste cosine qua una cosa tra le altre tra le tante che mi ha un po diciamo colpito è la grandezza del font ora sono andato a guardare anche altri orologi che ho in collezione e in realtà le scritte quelle ore 6 sono piccole come sono piccole negli altri orologi non cambia niente anche qua nel dell'idro conquest le scritte automatic 300 metri sono veramente piccole come queste è piccola invece la scritta officine tecniche il logo ore 12 secondo me andrebbe ingrandito un pochino di più perché veramente a occhio nudo sembra una una striscetta come diceva l'apo che è quasi illegibile quindi questo è uno dei punti deboli dell'orologio che insomma non è che va a inficciare nell'indossabilità né la qualità percepita ora poi detto questo a livello di grafica non c'è altro da dire quale scegliere quale modello scegliere anche per voi che dovete acquistare allora sicuramente il modello migliore quello che è più bello secondo me che vale di più è sicuramente quello blu questo qua blu con il calibro g101 all'interno la cassa che ha subito il processo di indurimento il bracciale il cinturino insieme è quello che al polso sta meglio c'è ancora da aggiungere una cosa che mi stavo dimenticato il bracciale il cinturino in caociu ecco il cinturino in caociu morbida deve essere gomma morbida in realtà non è morbidissima io indossando quello arancione ho notato che tende a farlo stare un pochino dritto sul polso ok per farlo stare adagiato come dovrebbe essere bisogna stringerlo a manetta e diventa scomodo per assurdo è più comodo veramente comodo il bracciale a chicchi di riso integrato è comodissimo quello lì non lo senti al polso e lo indosseresti per ore e ore quello in gomma si fa fatica un pochino di più a indossarlo è per assurdo perché stringe ai lati e tiene alta la testa detto questo va anche detto che mi hanno già suggerito i ragazzi che stanno modificando l'attacco del bracciale in caociu quindi per strecciarlo un po di più para ponzi ponzi e quindi probabilmente questo problema qua verrà risolto detto questo il fatto che in ogni scatola ci sia l'adattatore per i cinturini normale da 20 ribalta mi ribalta tutta la situazione perché a me sinceramente non mi interessa più di avere quel bracciale link a ociu con l'attacco proprietario che è disegnato da loro non mi interessa più non mi interessa perché una volta che c'è quell'adattatore io posso poi metterci anche un cinturino dello stesso colore del quadrante o simile o contrasto completamente abbiamo certi in casa che i tropic per esempio che sono morbidissimi che d'estate fanno la morte loro come si direbbe no e quindi con quell'adattatore lì a me sinceramente del bracciale cinturino in caociu nativo interessa veramente poco è più interessante il bracciale che è veramente comodo e bello a vedersi questo è poco ma sicuro quindi detto questo io il modello che vi consiglio a voi è quello blu col calibro migliore e il trattamento migliore che giunge col doppio cinturino quello che invece scelgo io è quello arancione io scelgo quello arancione con il cinturino in caociu con il mio 8 a 90 a 39 che è meno preciso che è meno pregiato che non mi giunge col bracciale anche se penso che poi mi manderanno anche il bracciale che sono tanto bravi visto che gli scelgo quello che costa di meno e peso meno sulla finanza dell'azienda ma datemi anche il bracciale io ho quell'arancione perché perché per me per la mia collezione per come è strutturata adesso quello che mi interesserebbe avere è un orologio con il quadrante arancione di quel tipo lì che tra gli orologi colorati l'arancione è quello che viene considerato anche un pochino più professionale uno dice prendo il quadrante nero il quadrante blu il quadrante grigio per gli orologi simili professionali ma anche l'arancione viene considerato tale vedi doxa vedi altri tipi di orologi vulcani che fanno orologi arancioni e vengono identificati come professionali quindi l'arancione pur essendo colorato estivo è professionale come colore la ghiera nera mi piace e ci metto un adattatore con un cinturino tropico di quelli magari arancione o e per andare al mare o nelle situazioni acquatiche mi diventa l'orologio perfetto come vedete io scelgo in base alla mia collezione non scelgo in base a quello che al calibro o al processo di indurimento del metallo cioè ognuno deve scegliere per quello che è personalizzata diciamo la collezione personale perché personale perché è in base alle proprie esigenze se a te in questo momento ti piace avere un orologio giallo e devi prendere quello giallo se ti piace avere l'orologio rosa perché va di moda il rosa adesso e prendilo rosa nessuno ti dirà niente viola quello che è oppure se sei come sono io un oltransista del colore nero blu e grigio no sobrietà lo prendi lì però io c'erano tanti di quei colori lì quindi preferisco quello arancione poi ragazzi altre cose da dire io non ne saprei non ne saprei fatemi un po' pensare e niente l'unica cosa è ad esempio la clasp ho detto che questa qua è lunghetta si vede che è lunghetta però non ho visti tanti di orologi con la clasp lunghetta così e non sta male non starebbe male però presumo che questa qua sia una di quelle di fornitura fatta bene con la regolazione ingegnerizzata ma di fornitura un po' standard loro se la sono progettati da zero per averla più corta e con la stessa escursione e quindi è tanto di guadagnato quando ti arriverà il bracciale con la clasp più corta tanta tanta roba comunque l'orologio è promosso io non poteva essere diversamente altrimenti non l'avrei preso perché lo so già prima che sono belli orologi sono fatti bene e vale la pena poi tra le altre cose quando si parla di brand emergenti bla 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 ecco loro offrono anche la garanzia di 24 mesi perché possono uscire no quelli fallati quindi a cui rivolgersi i problemi nascono e muoiono subito come diceva il killer io ho scelto con l'arancione ragazzi quindi c'è poco da dire spero vi sia piaciuta la panoramica gli orologi sono fatti bene quindi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao ciao